Quello che si è seguito davanti a me è Potkin, il capo allenatore di Nepomniace. Il russo è già arrivato e si è seduto. Stiamo aspettando Karlsson. E' uscito Piranai Leninssen dalla sanzetta di Karlsson, il suo preparatore, lo vedete a destra in questo video. Maurice Ashley sta sulla porta del corridoio dove entra da Karlsson. Nepomniace è già seduto prima di tutto il cerimoniale, quindi ci è molto molto concentrato. D'altra parte è una partita quasi senza ritorno per lui, se oggi perde il match è virtualmente finito. Grazie.